Musica Eccoci al Salomaglio di Milano perché siamo giunti al momento del top 5 di calcissimo i 5 migliori interpreti dell'ultima serie A Allora abbiamo in mano una splendida Coppa Negroni perché abbiamo pensato che la Coppa è perfetta per Antonio Conte Antonio Conte ha vinto lo Scudetto, ha vinto la Coppa e quindi ci sembra normale associare il tecnico della Juventus alla mitica Coppa Negroni Per quanto riguarda invece Balotelli insomma decisivo nella stagione rossonera cosa di meglio di un grandissimo culatello prestigioso, caro però insomma la qualità assolutamente non si discute Passiamo invece al crudo quindi a un salume che ci dà una sorta di sicurezza quasi una tradizione quindi Totti che anche quest'anno ha dimostrato di essere fondamentale per la Roma in un solo pensiamo al record di gol in serie A abbiamo pensato di abbinarlo al prosciutto crudo Per quanto riguarda invece il povero Andrea Stramaccioni che ha dovuto convivere con una serie di infortuni pazzeschi il salame mette tutti d'accordo e quindi è ovvio che Stramaccioni sta benissimo con il salame infine abbiamo pensato che la pancetta quindi diciamo un salume che va bene per qualsiasi occasione ma ti lascia quel gusto quasi fantastico quasi dolciastro beh Cavani, capocannoniere della stagione ha mandato in sollucero tutti i tifosi azzurri e quindi la pancetta è perfetta per uno come lui ma sarete voi a decidere qual è il giocatore salume perfetto in questa splendida annata taggata serie A